È stato un weekend all'insegna del Beach Water Polo nelle acque cristalline di Castellabate, nel ricordo di Rosario Mazzitelli, il giornalista sportivo campano, morto a causa del Covid nell'ottobre del 2020 e principale artefice dei tornei di pallannuota a mare che negli anni scorsi si sono svolti nel Cilento. L'evento pallannuotistico, dedicato questa volta ai ragazzi Under 12 e Under 14, è stato organizzato dal Circolo Nautico Punta Tresino con il patrocinio del Comune di Castellabate. In acqua sono scese la Pallannuoto Salerno, la Balnearia e Battipaglia e la Rarinantes Salerno. È stata una bella giornata di sport e divertimento per i ragazzi e di ricordo di un nostro grande amico, una persona innamorata del Cilento, Rosario Mazzitelli, ha detto al termine della giornata il direttore sportivo del Circolo Nautico Punta Tresino, Giovanni Pisciottano. Grazie al Rosario abbiamo conosciuto e apprezzato la pallannuoto in acqua e libere anche nel Cilento ed è proprio così che vogliamo ricordare il suo estancabile impegno. Presenti nel Cilento, i familiari di Mazzitelli che hanno ritirato la targa dedicata al loro caro. Manifestazioni del genere ci permettono di mantenere ancora viva l'immagine ma soprattutto il sorriso di nostro padre. Era un uomo profondamente legato a quelle che erano le attività natatorie in questa regione, soprattutto legate alla formazione come l'evento che organizzate voi ogni estate. Noi siamo felicissimi perché abbiamo vissuto la tragedia della lontananza nostro padre all'improvviso a causa del Covid e una manifestazione come questa e come quelle che ci sono state quest'anno anche realizzata dalla Federazione Italiana Nuoto al Comitato Regionale Campano ci permettono di ricordare l'animo sportivo di nostro padre che era vivo quotidianamente in ogni sua azione. È un ricordo bellissimo per chi ci sembra quasi di rivedere una sua programmazione estiva come quando realizzava il torneo Cilento Costa Blu, il torneo internazionale di pallannuoto in acque libere e quindi possiamo solamente essere contenti e speriamo che questo evento possa continuare negli anni.